Siate uomini contemplativi, che con lo sguardo del cuore fisso sul Signore sanno vedere quello che non vedono altri, impediti dalle preoccupazioni di questo mondo, che sanno proclamare con l'audacia che viene dallo Spirito che Cristo è vivo ed è il Signore. Lo ha detto Papa Francesco ai partecipanti al 32esimo capitolo generale della congregazione della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, i risurrezionisti. Dopo aver richiamato il carisma addettato dal fondatore Bogdan Jansky, apostolo dei polacchi emigrati in Francia nel XIX secolo, testimoniare che la risurrezione di Cristo è la base della vita cristiana e annunciare l'esigenza della risurrezione personale, il Papa ha commentato il tema del capitolo generale, testimoni della presenza del Signore risorto dalla comunità al mondo. La nostalgia di un passato fruttuoso di vocazioni e grandioso di opere, ricordato il Pontefice, non vi impedisca di vedere la vita che il Signore fa germogliare accanto a voi oggi. Non siate nostalgici, ma forti della fede in Dio, annunciatori della venuta dell'alba anche in piena notte. Siate un istituto in uscita verso le periferie umane per non privare chi aspetta la buona notizia della risurrezione, ma anche costruttori di comunità evangeliche e non meri consumatori di esse, pronti ad assumere la vita fraterna in comunità come la prima forma di evangelizzazione, comunità che siano aperte alla missione e rifuggano l'autoreferenzialità che conduce alla morte. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Risuoni continuamente nei vostri cuori questa parola. Mi aiuterà a uscire dai momenti di tristezza e vi aprirà orizzonti di gioia e di speranza. Vi permetterà di ribaltare le pietre dei sepolcri e vi darà la forza per annunciare la buona notizia in questa cultura tante volte segnata dalla morte. Se avremo il coraggio di andare fino ai nostri sepolchi personali e comunitari, vedremo come Gesù è capace di farci risorceri da essi. E questo ci farà ritrovare la gioia, la felicità e la passione dei primi momenti del nostro donarci.